Siamo alla pagina sportiva, iniziamo parlando di calcio di serie B, secondo tampone negativo per il centrocampista del Pescara Macin che dopo la visita di Idoneità tornerà ad allenarsi con i compagni. Martedì nella sfida contro l'Entella, l'Adriatico Cornacchia, in programma alle ore 14, il guineano sarà a disposizione del tecnico Gianluca Grassadonia e Macin, primo biancazzurro ad aver contratto il virus lo scorso 9 aprile, ieri ha effettuato il tampone il cui esito è stato negativo e oggi il risultato è stato confermato. Così dopo la visita di Idoneità domani il centrocampista tornerà ad allenarsi insieme ai compagni e sarà disponibile nella gara contro l'Entella. Domani sono in programma nuovi test per componenti del gruppo squadra risultati negativi al Covid, poi nuovo controllo per gli attuali positivi.